Beh no, sono tutti quanti bravi, adesso non mi va di sta sempre a dire Mammarella che ieri ha fatto i miracoli perché la squadra sarebbe anche offensivo per la squadra, è vero che Mammarella fa i miracoli ma produce 50 palle gol per cui io credo che Calderolli per me è il più forte giocatore italiano, per cui penso sia lui. Grazie